Con questo tutorial vediamo come risolvere i sistemi di disequazioni. Partiamo da questo esempio. Allora andiamo a porre il numeratore maggiore o uguale a 0 e il denominatore maggiore di 0. Siccome che il numeratore ha una potenza dispari, possiamo eseguire la radice cubica di ambo i membri e quindi possiamo semplificare questa potenza 3 e quindi ci rimane x maggiore o uguale a 0. Per quanto riguarda il denominatore andiamo a scrivere x maggiore di 9. A questo punto andiamo a fare la rappresentazione grafica dello studio del segno. Vediamo la domanda e ci si chiede quando è che questa frazione è minore o uguale a 0 e il minore o uguale a 0 lo vedo qui. Adesso andiamo a studiare la seconda disequazione e vado a riscrivere x meno 2 alla terza maggiore o uguale a 0. Siccome che qui ho una potenza di ordine dispari, posso eseguire la radice cubica di ambo i membri e quindi semplificare questo 3 a potenza ed ottengo x maggiore o uguale a 2. Ora andiamo a rappresentare la soluzione del sistema. Allora, per la prima disequazione la parte che mi interessa è questa, cioè i numeri tra 0 incluso e 9 e sono questi. Per quanto riguarda invece la seconda disequazione devo andare a prendere i numeri maggiori o uguali a 2 e sono questi qui. Allora la parte comune che viene verificata sia dalla prima che dalla seconda disequazione è questa e allora vado a scrivere x compreso tra 2 e 9 con 2 incluso. Vediamo quest'altro esempio. Allora parto da questa disequazione e la vado a scomporre utilizzando il trinomio caratteristico. A questo punto vado a porre questo fattore e questo fattore maggiore di 0 e poi rappresentazione grafica dello studio del segno. Vado a vedere la domanda, mi si chiede quando questa quantità è minore di 0 e il minore di 0 lo vedo per i numeri tra meno 5 ed 1. Adesso andiamo a studiare la seconda disequazione e andiamo a porre il numeratore maggiore o uguale a 0 e il denominatore maggiore di 0. Studio del segno e poi vado a vedere la domanda, mi si chiede quando questa frazione è maggiore o uguale a 0 e il maggiore o uguale a 0 lo vedo qui e lo vedo qui. A questo punto vado a rappresentare la soluzione del sistema. Per quanto riguarda la prima disequazione devo andare a prendere i valori tra meno 5 ed 1 e allora indico meno 5 ed 1. Per quanto riguarda la seconda disequazione devo andare a prendere i valori esterni a 1 terzo e 9. Allora indico 1 terzo, indico 9 e prendo la parte esterna con 1 terzo incluso. La parte comune che viene verificata sia dalla prima che dalla seconda disequazione è questa qui e allora vado a scrivere x compreso tra meno 5 e 1 terzo con 1 terzo incluso. Vediamo quest'altro caso. Allora la prima cosa che devo fare è portare 1 a sinistra e fare il minimo comune multiplo. Raccolgo i termini simili ed ottengo meno 4x più 7 fratto x maggiore di 0. Ora vado a porre il numeratore e il denominatore maggiore di 0 e faccio lo studio del segno. Vado a vedere la domanda, mi si chiede quando questa disequazione è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo per i valori tra 0 e 7 quarti. Adesso andiamo a risolvere la seconda disequazione. Porto questa quantità a sinistra e faccio il minimo comune multiplo. Vado a porre numeratore maggiore uguale a 0 e denominatore maggiore di 0 e faccio lo studio del segno. Vado a vedere la domanda, mi si chiede quando questa frazione è maggiore o uguale a 0 e il maggiore o uguale a 0 lo vedo qui e lo vedo qui. Adesso andiamo a rappresentare la soluzione del sistema di disequazioni. Per quanto riguarda la prima disequazione devo andare a prendere i valori tra 0 e 7 quarti, quindi indico 0 e 7 quarti. Per quanto riguarda la seconda disequazione devo rappresentare questo intervallo e questo intervallo. Allora indico meno 5 mezzi e meno 1 e rappresento la parte esterna qui con meno 5 mezzi incluso e meno 1. Allora la parte comune che viene verificata dalla prima e della seconda disequazione è questo qui. Allora la soluzione sarà x compreso tra 0 e 7 quarti. Vediamo quest'altro esempio. Allora andiamo a porre in questa disequazione numeratore e denominatore maggiore di 0. Il denominatore è di secondo grado e lo posso scomporre per differenza di quadrati e vado a porre questo fattore e questo fattore maggiore di 0 e poi studio del segno. Vado a vedere la domanda, mi si chiede quando questa disequazione è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo qui e lo vedo qui. Adesso andiamo a risolvere la seconda disequazione. Allora andiamo a porre numeratore maggiore di 0 e denominatore maggiore di 0. Per quanto riguarda il numeratore ho meno 4 maggiore di 0. Meno 4 non è una quantità maggiore di 0 e questo significa che il numeratore sarà sempre negativo. Per quanto riguarda il denominatore, visto che qui ho una potenza dispari, posso eseguire la radice cubica di ambo i membri e togliere la potenza 3 ed ottengo x più 1 maggiore di 0 da cui x maggiore di meno 1. Rappresentazione del segno e poi vado a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa disequazione è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo qui. Adesso vado a rappresentare la soluzione del sistema di disequazione. Per quanto riguarda la prima disequazione devo andare a prendere i valori tra meno 9 e un mezzo e maggiore di 9. Per quanto riguarda la seconda disequazione devo andare a prendere i valori più piccoli di meno 1. Allora la parte comune che viene verificata dalla prima e dalla seconda disequazione è questa qui e allora vado a scrivere x compreso tra meno 9 e meno 1. Vediamo quest'altro esempio. Allora vado a porre numeratore e denominatore maggiore di 0 e faccio lo studio del segno. Vado a vedere la domanda, mi si chiede quando questa disequazione è minore di 0 e il minore di 0 lo vedo qui. Adesso andiamo a risolvere la seconda disequazione. Facciamo il minimo comune multiplo e poi andiamo a porre numeratore maggiore o uguale a 0 e denominatore maggiore di 0. Il denominatore x quadro meno 1 l'abbiamo scomposto per differenza di quadrati e poi andiamo a porre questo fattore e questo fattore maggiore o uguale a 0. Il denominatore x scriviamo solo x maggiore di 0. Adesso andiamo a fare lo studio del segno. Adesso andiamo a vedere la domanda, mi si chiede quando questa disequazione è maggiore o uguale a 0 e il maggiore o uguale a 0 lo vedo qui e lo vedo qui. Adesso andiamo a rappresentare la soluzione del sistema di disequazione. Per quanto riguarda la prima disequazione devo andare a prendere i valori tra meno 4 e meno tre ottavi. Per quanto riguarda la seconda disequazione devo andare a prendere i valori tra meno 1 e 0 e quindi scrivo qui meno 1 e 0 con meno 1 incluso e poi i valori maggiori uguali a 1. La parte comune che viene verificata dalla prima e dalla seconda disequazione è questa qui e allora vado a scrivere x compreso tra meno 1 e meno tre ottavi con meno 1 incluso. Vediamo quest'altro esempio. Allora parto da questa disequazione e vado a porre questo fattore e questo fattore maggiore di 0. Osservo che questa quantità è un quadrato di binomio che posso andare a scrivere come x più 1 al quadrato. Dopo aver scritto x più 1 alla seconda lo vado a scrivere come x più 1 per x più 1 e pongo ogni fattore maggiore di 0. Adesso vado a fare lo studio del segno e adesso vado a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa disequazione è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo per i valori più grandi di 3. Ora andiamo a risolvere la seconda disequazione. Porto questa quantità a sinistra e faccio il minimo comune multiplo. Sommo meno 9 con meno x e poi vado a porre numeratore maggiore di 0 e denominatore maggiore di 0. Rappresentazione grafica dello studio del segno e poi vedo la domanda. Mi si chiede quando questa quantità è minore di 0 e il minore di 0 lo vedo qui e lo vedo qui. Andiamo a rappresentare adesso la soluzione del sistema di disequazione. Per quanto riguarda la prima disequazione devo prendere i valori più grandi di 3 e sono questi qui. Per quanto riguarda la seconda disequazione devo andare a prendere i valori esterni a 27 decimi e 3. E sono questi qui. La parte comune che viene verificata dalla prima e dalla seconda disequazione è questa e allora vado a scrivere x maggiore di 3. Vediamo quest'altro caso. Porto il 2 a sinistra, faccio il minimo comune multiplo, poi pongo numeratore e denominatore maggiore di 0 e studio del segno. Vado a vedere la domanda, mi si chiede quando questa disequazione è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo tra 0 e 3 quattordicesimi. Adesso risolviamo la seconda disequazione. Porto x quadro a sinistra, vado a mettere in evidenza una x e poi vado a porre il primo fattore e il secondo fattore maggiore di 0. Studio del segno e vado a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa disequazione è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo prima di meno 4 e dopo di 0. Andiamo a rappresentare la soluzione del sistema di disequazione. Allora per quanto riguarda la prima disequazione devo andare a prendere i valori tra 0 e 3 quattordicesimi. Per quanto riguarda la seconda disequazione devo andare a prendere i valori esterni a meno 4 e 0, quindi questi e questi qui. La parte comune che viene verificata dalla prima e dalla seconda disequazione è questa. Allora vado a scrivere x compreso tra 0 e 3 quattordicesimi. Vediamo quest'altro esempio. Allora porto 5x quadro a sinistra e vado a mettere in evidenza una x e quindi scrivo x che moltiplica meno 5x più 8 minore di 0. Vado a porre questo fattore e questo fattore maggiore di 0 e poi studio del segno. Vado a vedere la domanda, mi si chiede quando questa disequazione è minore di 0 e il minore di 0 lo vedo qui e lo vedo qui. Andiamo a risolvere la seconda disequazione. Allora questo x più 2 al quadrato lo vado a scrivere come x più 2 per x più 2 maggiore o uguale a 0 e vado a porre questo fattore e questo fattore maggiore o uguale a 0 e poi studio del segno. Vado a vedere la domanda, mi si chiede quando questa disequazione è maggiore o uguale a 0, il maggiore di 0 lo vedo qui e lo vedo qui e l'uguale a 0 lo vedo quando x vale meno 2. Andiamo a rappresentare la soluzione del sistema di disequazione. Allora per quanto riguarda la prima soluzione devo andare a prendere questi valori e questi valori e quindi indico i valori prima di 0 e i valori dopo di 8 quinti. Per quanto riguarda la seconda disequazione invece vado a prendere tutto e quindi tiro una linea continua e la parte comune che viene verificata dalla prima e dalla seconda disequazione è questa qui. E allora vado a scrivere x minore di 0 bel x maggiore di 8 quinti. Vediamo quest'altro esempio, allora vado a porre numeratore e denominatore maggiore di 0. Per quanto riguarda il denominatore ho messo in evidenza un x quadro e poi pensando scritto x quadro come x per x vado a porre x maggiore di 0, x maggiore di 0 ed x più 1 maggiore di 0 ed ottengo queste tre soluzioni. Rappresentazione grafica dello studio del segno e poi vado a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa disequazione è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo qui e lo vedo qui. Andiamo a risolvere adesso la seconda disequazione. Porto questa quantità a sinistra e faccio il minimo comune multiplo. vado a porre numeratore e denominatore maggiore di 0 e studio del segno. Vado a vedere la domanda, mi si chiede quando questa disequazione è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo qui e lo vedo qui. Andiamo adesso a rappresentare la soluzione del sistema di disequazione. Allora per quanto riguarda la prima soluzione devo rappresentare questo intervallo e questo intervallo. Per quanto riguarda la seconda soluzione devo rappresentare i valori prima di 0 e dopo di tre mezzi e la parte comune che viene verificata dalla prima e dalla seconda disequazione è questa qui. E allora vado a scrivere x minore di meno 1 bel x maggiore di 3. Vediamo quest'ultimo esempio. Allora è composto da tre disequazioni. Partiamo da questa e vado a porre, dopo aver fatto il minimo comune multiplo, numeratore e denominatore maggiore di 0. Considerato che il numeratore lo posso scrivere come quadrato di binomio, ossia x più 1 al quadrato, una volta che vado a porre il numeratore maggiore di 0, x più 1 al quadrato lo scrivo come x più 1 per x più 1 ed ottengo x maggiore di meno 1 ed x maggiore di meno 1. Il denominatore che è x più 2, una volta risolto, mi dà x maggiore di meno 2. Rappresentazione grafica dello studio del segno e poi vado a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa disequazione è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo per i valori tra meno 2 e meno 1 e per i valori maggiori di meno 1. Andiamo adesso a risolvere la seconda disequazione. Mettiamo in evidenza una x e poi andiamo a porre primo fattore e secondo fattore maggiore uguale a 0. Rappresentazione grafica dello studio del segno e poi vado a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa disequazione è minore uguale a 0 e il minore uguale a 0 lo vedo per i valori inclusi tra 0 e 1. Andiamo a risolvere l'ultima disequazione. Posso moltiplicare ambo i membri per meno 1 così tolgo questo segno meno e da minore passa maggiore e poi vado a porre numeratore e denominatore maggiore di 0. Una volta che moltiplico ambo i membri per meno 1 ottengo x più 1 fratto x maggiore di 0. Poniamo numeratore e denominatore maggiore di 0 e poi studio del segno. Andiamo a vedere la domanda. Mi si chiede quando questa disequazione è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo qui e lo vedo qui. Adesso dobbiamo andare a rappresentare la soluzione del sistema di disequazione. Allora rappresentiamo il primo intervallo ossia i valori tra meno 2 e meno 1 e più grandi di meno 1 e sono questi qui. Allora meno 2 e meno 1 e i valori più grandi di 1. Ricordiamo che meno 1 non fa parte della soluzione del primo caso. Poi rappresentiamo la seconda soluzione cioè i valori tra 0 e 1 con 0 e 1 inclusi e sono questi qui. Quindi indico 0, 1, metto i pallini dell'uguale e poi andiamo a rappresentare la terza soluzione cioè sono i valori esterni a meno 1 e 0. Allora indico meno 1, indico 0 e prendo la parte esterna cioè è questa qui. La soluzione che verifica tutte e tre le disequazioni è questa qui. Allora sono i valori che si trovano tra 0 e 1 con 1 incluso perché 1 fa parte della soluzione del primo caso, del secondo caso e del terzo caso. Mentre 0 non lo possiamo includere perché appartiene alla soluzione del primo caso, appartiene alla soluzione del secondo caso, mentre nel terzo caso qui non c'è il pallino e quindi non lo possiamo includere nella soluzione complessiva. E allora vado a scrivere x compreso tra 0 e 1 con 1 incluso. E con questo esempio termino questo tutorial sui sistemi di disequazione.